buongiorno e bentornate sul mio canale iniziamo con il primo progettino del 2023 viste le temperature che ci sono qui dalle mie parti io con una flowers marine una flowers alpaca mi sono realizzata questo bellissimo gilet che ho chiamato tramonto proprio perché i colori mi ricordano il tramonto la flower alpaca è un 20 per cento alpaca 80 per cento acrilico e il peso è 250 grammi in 940 metri e l'uncinetto consigliato è il numero adesso ve lo dico subito è il numero 7 ma io ho utilizzato il numero si scusate nel numero 44 e mezzo io però ho utilizzato il 4 ma voi come dico sempre dovete provare con la vostra mano e vedere se va bene il 4 può passare una mezza misura in più io ho scelto il numero 400 il colore 420 e l'819 queste bellissime sfumature ma sul sito dove ho acquistato io questa flower ci sono anche altri colori e il sito si chiama www.merceriaflavia.it detto questo il progettino è un gilet come vi dicevo semplicissimo top down che si parte dall'alto a scendere adesso vi do qualche indicazione e qualche suggerimento e poi vi faccio vedere come si com'è la partenza perché poi potrete andare avanti da sole tranquillamente perché è molto semplice non ho usato punti particolari perché è bello il filato e quindi ci tenevo a far vedere la sfumatura quindi è un progetto alla portata di tutte allora vi dico subito che l'avvio delle catenelle il mio stesso avvio è uguale per tutte le taglie è un'altra cosa molto importante come dico spesso che chi vuole ottenere il mio stesso risultato dovrà utilizzare il mio stesso filato se utilizzate filati diversi logicamente avrete risultati diversi dove io non potrò darvi aiuto quindi ci tenevo a precisare quindi io ho avviato 80 catenelle e le ho chiuse in cerchio ho fatto prima un giro di tutto a punto alto poi nel secondo giro ho fatto una maglia alta e un aumento per tutto il giro poi nel giro numero 9 e nel giro numero 11 ho fatto 10 aumenti sparsi invece nel giro numero 17 ho fatto la parte dello scalfo il ragla come facciamo per lo per lo sprone rettangolare o quadrato facendo tre giri completi e poi ho fatto tre giri soltanto per il dietro per far sì che scenda bene il progetto comunque adesso iniziamo insieme perché perché voglio farvi vedere diciamo è questo mio modellino e inoltre volevo dirvi che potete io non ho fatto la manica è perché volevo un gilet ma voi potete riprendere le maniche e fare le maniche potete fare uno scalfo diverso dal mio non ci sono problemi potete proseguire e fare un gilet chiuso senza fare l'apertura davanti così particolare come ho fatto io potete allungarlo chiudendo lavorando in tondo facendo gli aumenti sparsi magari un giro sì e due giri no e allungandolo anche tipo un vestitino però logicamente se volete questo mio risultato tra virgolette per una taglia 46 barra 48 vi basta una flower mentre da taglie superiori 48 50 oppure 50 52 dovrete comunque acquistare due flower io sotto al tutorial vi lascio tutti i link di riferimento adesso avviate le 80 catenelle io ne avvierò qualcuna in meno perché vi farò vedere il campioncino allora io le catenelle le ho avviate con l'uncinetto del 4,5 mentre tutto il progetto è lavorato con l'uncinetto del numero 4 quindi una volta avviate le le vostre 80 catenelle facciamo il primo giro tutto a punto alto quindi una maglia alta per ogni catenella quindi ci vediamo a fine giro per farvi vedere come fare gli aumenti per allargare lo sprone allora ho terminato il primo giro con tutte e soltanto punti alti adesso iniziamo con gli aumenti quindi io come faccio di solito 2 catenelle rientro e alla prima maglia alta quindi equivale ad una maglia alta adesso nella maglia successiva facciamo due maglie alte quindi una e due maglia alta singola e aumento 2 maglie alte nello stesso punto una e due maglia singola maglia successiva aumento 2 maglie alte nello stesso punto quindi andate avanti in questo modo per tutto il giro ci vediamo a fine giro allora abbiamo terminato il secondo giro dove abbiamo fatto gli aumenti a questo punto potete decidere voi come procedere con il progetto nel senso che occhio ci chiudiamo con la maglia bassissima sulla prima maglia alta e lavoriamo in tondo un giro con gli aumenti facendone più o meno 10 sparsi e due giri di assestamento poi se avete bisogno di più aumenti ne farete anche 12 non è un problema andate avanti in questo modo fino ad arrivare alla vostra misura dello scalfo una volta arrivati alla misura dello scalfo si chiude sotto sotto le bra dove avete messo i marca punti e si scende giù dritti oppure potete fare l'apertura come la mia con questo non so se si riesce a vedere qui dalla telecamera diciamo questa apertura un po particolare perché nella parte bassa finisce in questo modo oppure potete lavorare scendendo giù dritti anche se facendo l'apertura sul davanti però scendendo dritti e non vi da questa forma come la mia nel senso che io per dare questa forma ho fatto un aumento ai giri di punto alto sia di inizio giro che a fine giro perché perché la parte superiore cioè nel senso fino ad arrivare allo scalfo praticamente ho lavorato alternando i giri un giro di punto alto ad un giro di punto basso per creare le mezze treccioline sempre se le volete altrimenti fate tutto punto alto tranquillamente e la sfumatura di questo filato fa il suo lavoro quindi io ho fatto in questo modo ho fatto l'aumento ad inizio e fine giro quindi due catenelle volto il lavoro rientro è la prima maglia alta quindi una rientro due e proseguiamo facendo il giro comunque di assestamento lavorando le maglie come si presentano quindi in questo modo potete andare avanti tranquillamente lavorando punto su punto fino a fine giro e poi ci rivediamo abbiamo terminato il giro e ho fatto l'aumento adesso facciamo una catenella voltiamo il lavoro rientro e faccio tutto in giro appunto basso in questo modo se avete bisogno anche facendo questo giro appunto basso potete fare qualche aumento io non ne avevo bisogno e non ne ho fatti però voi se avete bisogno a questo giro di punto basso potete fare tranquillamente dieci aumenti sparsi nel giro quindi finisco il giro ci vediamo non so se si riesce a vedere bene con la luce che cosa ho fatto io praticamente io sulla parte alta dello sprone ho ripetuto le treccioline che ho fatto vedere nello scaldacollo cristalli di ghiaccio come realizzarle dopodiché quando ho chiuso praticamente che cosa ho fatto io ho giocato un pochino con le maglie alte a rilievo creando questo disegno semplicissimo quindi quando io sono andata a fare la suddivisione per lo scalfo ho usato come punto di riferimento la diciamo l'ultima striscia di punti alti e da lì ho fatto tutta la suddivisione ma come ripeto se voi invece non vi piace volete scendere giù dritti utilizzare soltanto il punto alto perché comunque è il bello il filato nessun problema arrivate allo sca ai vostri centimetri come vi ho fatto vedere nel gilet foresta perché io ho usato anche in questo caso la stessa tecnica del gilet foresta e della maglia delizia che cosa ho fatto in questo caso io non sono andata a prendere i 13 centimetri cioè da questo da questo punto non ho calcolato i miei 13 centimetri ma bensì ne ho calcolati 28 perché sì volevo un gilet però volevo un gilet tra virgolette con una mano con una manica una mezza manica quindi ho calcolato qualche centimetro in più ma poi sotto al video vi rimetto il vi rimetto il link del gilet foresta in modo tale che potete riguardarvi con calma quello e seguire le indicazioni che do perché sono le stesse cambiano soltanto i centimetri però questo tutto in base alla mia taglia logicamente taglie diverse avranno centimetri di riferimento diversi quindi io vi faccio rivedere un attimino come si realizzano le mezze trecce per chi non lo sa e poi andiamo avanti allora per chi vuole realizzare le quattro striscioline di treccioline io ho fatto in questo modo allora facendo sempre l'aumento ad inizio giro per chi vuole altrimenti scendete giù dritte oppure potete tranquillamente chiudere in cerchio e lavorare in tondo fatto il mio aumento ho fatto quindi due due maglie alte nello stesso punto poi una terza maglia alta quarta maglia alta e sulla quinta ho fatto l'archettino per poi creare la treccia quindi una due tre tre 5 6 7 8 rientriamo alla base delle due costine e chiudiamo con la maglia bassissima e poi ho ripetuto sempre cinque maglie alte e sulla quinta l'archettino quindi due tre tre quattro cinque e ho ripetuto l'archetto quindi due tre quattro cinque e sei sette e otto alla base e chiudo col punto bassissimo quindi ne ho fatte praticamente cinque separate da cinque maglie alte quindi ho lavorato cinque maglie alte e ho fatto il l'archetto altre cinque maglie alte l'archetto per l'ho ripetuto per quattro volte sia da un lato che dall'altro quindi stessa adesso sul campione io ne farò soltanto due però voi sul pezzo originale se volete ne potrete fare quattro come ho fatto io o potete farne anche di più questa è una vostra scelta perché questo progettino lo potete rivoluzionare come più vi piace adesso ci alziamo con una catenella voltiamo il lavoro e facciamo il giro di maglie basse quindi lavoriamo tutte le mani di maglie basse quindi punto su punto quando arriviamo nell'anellino ce lo portiamo avanti e maglia bassa e maglia bassa quindi fate tutto il giro di punto basso e poi ci rivediamo allora abbiamo terminato il giro di punto basso adesso c'è il punto alto quindi facciamo all'aumento ad inizio e fine giro quindi rientriamo questa è sempre per me la prima maglia alta una seconda maglia alta poi lavoriamo una due spostiamo all'anellino lavoriamo questa maglia alta ma vicino e questa qui di maglia alta se stiamo giuste per fare l'anellino mettiamo in questo modo se corrisponde possiamo ripetere il nostro anellino quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8 e chiudiamo con la maglia bassissima e poi continuiamo lavorando le maglie come si presentano quindi andate avanti in questo modo e se avete bisogno di aumentare come vi dicevo è anche in questo giro si può aumentare dai 10 8 aumenti 10 12 quelli che a voi di cui avete bisogno perché il giro di punto alto anche se potete farlo anche nel giro del punto basso però io preferisco farlo nel giro del punto alto allora in questo caso io vi ho fatto vedere l'apertura sul davanti quella più tra virgolette regolare molto più semplice mentre se volete quella mia sovrapposta quando voi avete fatto il primo giro di punto alto e andare a fare il secondo giro e questo io ve l'ho fatto vedere già in altri tutorial che trovate nel canale andate avanti passando dietro e nella maglia sotto agganciate il filo e lavorate la maglia alta io l'ho fatto per 10 maglie quindi ho lavorato 10 maglie ed è venuto questo questa apertura sovrapposta mentre questa è un'apertura regolare adesso in questo caso vi faccio vedere come si chiudono le treccioline anche se ripeto già lo trovate su altri tutorial e è semplicissimo praticamente prendete la prima la seconda la passate né all'interno della prima e se volete vi aiutate con uncinetto e in questo modo adesso facendo il giro di punto basso andiamo a fermare le treccioline allora lavoriamo le maglie alte scusate le maglie basse arriviamo sulla penultima prima dell'archettino ce lo alziamo poco poco entriamo prima in questo e poi nella maglia alta sotto e dietro e facciamo la maglia bassa e questo lo ripetiamo per tutto il giro e lavorando maglia bassa su maglia sulla maglia alta poi andiamo nella negli archettini successivi prendiamo questo lo passiamo all'interno io questo l'ho fatto per quattro volte qui l'ho fatto soltanto per due volte e quindi proseguiamo lavorando la maglia bassa fino ad arrivare alla maglia bassa corrispondente alla all'archetto e chiudiamo e in questo modo abbiamo praticamente chiuso le nostre treccioline andate avanti in questo modo per tutto il giro lavorando i punti bassi il punto basso e ci vediamo a fine giro abbiamo terminato il giro abbiamo chiuso le trecce ci alziamo con due catenelle voltiamo il lavoro e continuiamo con l'aumento ad inizio e fine giro quindi due maglie alte poi dal momento che io ho voluto chiudere le treccioline come ripeto io non ho fatto quattro giri come vi ho fatto vedere alternando un giro di punto basso ad un giro di punto alto dove praticamente ho le trecce chiuse che cosa ho fatto ho lavorato la maglia alta poi ho preso l'uncinetto e ho praticamente lavorato la maglia bassa al rilievo davanti aspettate che la prendiamo meglio sono entrata da in questo modo sbocando dall'altra parte prende agganciando il filato e facendo la maglia alta e poi ho proseguito lavorando le altre maglie diciamo da questo momento in poi io ho giocato con le maglie alte a rilievo creando il mio disegno quindi voi se volete potete dare sfogo alla vostra fantasia poi anche in questo caso dove io chiuso ho fatto la maglia alta rilievo e ho proseguito con i punti alti facendo la stessa cosa nel lato opposto quindi lavorando in questo modo e giocando con le maglie alte quando sono andata a dividere le mie parti cioè per creare lo scalfo io come appunto di riferimento ho utilizzato la maglia alta a rilievo vi faccio vedere sul pezzo originale quando sono andata a dividere per formare il raglà io sono andata visto che in ogni striscia di di trecce parto con una maglia alta a rilievo e poi divido che diventano due faccio questo gioco sulla prima io nella maglia a fianco metto il marca punti da questo lato sulla prima striscia metto il marca punti dall'altro lato nella maglia a fianco alla maglia alta a rilievo e per quanto mi riguarda per la mia taglia io ho deciso che per me 33 maglie lasciate a destra 33 a sinistra quindi mettendo il marca punti nella prima maglia vicino alla maglia a rilievo con con io ho contato tre 33 maglie alte nella trentaquattresima ho messo il marca punti da questo lato stessa cosa nel lato opposto quindi poi che cosa ho fatto dove avevo messo i marca punti ho fatto gli aumenti e gli aumenti l'ho fatti per quattro giri completi complessivi dopo aver fatto i quattro giri complessivi che cosa ho fatto ho fatto tre giri lavorando soltanto la parte dietro in modo tale che il gilet mi scendeva bene dopodiché io al ventiduesimo giro ho chiuso sotto le braccia sono scesa giù dritta lavorando le maglie come si presentano e inoltre ho alternato e dato questo gioco questo gioco di punti alti non so se si riesce a vedere la parte verde no però ecco qui forse si vede un pochino meglio ho creato questa alternanza di queste righe ma come ripeto questa è una cosa facoltativa e come dico sempre spero che io vi abbia dato un suggerimento uno spunto creativo un'idea per poter realizzare il vostro progettino come ripeto per la mia taglia 46 48 una flower alpaca è bastata cioè tranquillamente ce la fate come il mio se invece magari decidete di farlo più lungo di aggiungere la manica e cose diverse dovete acquistare due flower per chi lo vuole realizzare con filati diversi io non vi non vi so garantire poi il risultato quindi se qualcuna vuole il mio stesso risultato può acquistare il filato dove ho acquisto io e dove vi lascerò sotto il link il sito c'è il link di riferimento diretto al filato quindi detto questo mi auguro che anche questo possiate realizzare la vostra versione e vi ringrazio per avermi seguito di esservi iscritte e detto questo vi auguro una buona giornata e vi rimando a un prossimo tutorial